Il primo canto si intitola Tanto tempo di un'usa. È un canto della tradizione aggese, come del resto degli altri che faremo, e sembrerebbe apparentemente un canto profano. In realtà, profane sono le parole, ma la melodia è tratta dall'apassio della Settimana Santa. Del resto, siamo in periodo di Natale. Il Natale richiama la passione di Cristo, la passione richiama il Natale di Cristo. Tanto tempo di un'usa era indistizio di dire a te. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. I tanti beni, i tanti beni sono Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Palla gente odiosa, so che è un grazioso in tanti beni. Grazie. 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 Grazie.